Martedì 21 luglio, Maria Pia e Federica Paradiso, sorelle e gemelle di 21 anni e non vedenti dalla nascita, si sono laureate in scienze turistiche. Hanno discusso la tesi nella loro abitazione di Trani in modalità remoto con l'Università Telematica Pegaso. Siamo felicissime, hanno dichiarato le due neolaureate. Dopo anni di fatica e sacrificio è arrivato questo importantissimo traguardo. Nonostante le mille difficoltà incontrate durante tutto il percorso scolastico, grazie alla tenace e al supporto della nostra famiglia abbiamo realizzato questo sogno, diventare dottoresse. Tema della tesi di Maria Pia, l'architettura barocca meridionale, itinerari nel barocco salentino e siciliano, mentre Federica ha discusso la dimensione sociale del turismo e il sistema turistico in Puglia. Dopo la pausa estiva, la carriera universitaria delle due tenaci sorelle proseguirà con l'iscrizione alla laurea specialistica.